cari amici di resi 21 buongiorno e buona festa della repubblica a tutti cari amici in questo video troviamo daddy banni che manager di michel comi ex anche michel comi che cosa fa da un bel bacio a lei è un'altra persona spero comunque che il brasile ha fatto quel famoso video con michel comi anzi giù in descrizione vi lascio i link del canale tale che non potete ancora recuperarlo è però sembra che questi ultimi siano ancora fidanzati nonostante tutto cosa un'altra mossa per fare hype per far parlare di sé sapete che sulla 91 tutto è concesso tutto è permesso potete dire la vostra giù nella sezione commenti ma prima di tutto questo iscrivetevi al canale e attivate la notifica per non perdervi nessun contenuto esclusivo buona visione di questi micro contenuti grazie a tutti